Siamo qua per cuore in piazza con tutte le associazioni e adesso siamo con la Croce Rossa italiana. Grazie, siamo veramente orgogliosi di partecipare a questa giornata, un evento organizzato dall'amministrazione comunale che ringraziamo per dare visibilità a tutte le associazioni del terzo settore, associazioni che lavorano tante volte in sinergia sulla città e nel territorio provinciale ed è bello che si ritrovano anche in questo momento di festa, è bello che mostriamo alla cittadinanza quali sono le nostre attività, ognuno per la propria attitudine, quindi una grossa occasione, una grossa festa del volontariato. Lascio la parola a Riccardo che vi racconta un po' di noi e delle nostre attività della giornata. Grazie Presidente, oggi siamo qua con molto personale, oggi raccontiamo il nostro servizio giovane con le attività promosse dal nostro gruppo giovani e ovviamente il trucca bimbi e i palloncini e l'animazione che non mancano mai nelle nostre attività come supporto ai più piccoli. Abbiamo il corpo militare della Croce Rossa che ci affianca raccontando le loro attività sul territorio nazionale e fuori dal territorio nazionale e soprattutto ci supportano nelle attività che ogni giorno ci vedono impegnati a favore della popolazione. Inoltre oggi grazie alla protezione civile e al nostro personale specializzato nel soccorso sanitario garantiamo l'assistenza sanitaria alla popolazione installando anche un posto medico avanzato che è quella tenda dietro di noi che racconta come funziona un posto medico negli eventi critici e oggi invece funziona come punto di prima assistenza per la soccorso a tutte le persone che hanno necessità insieme ovviamente alle nostre ambulanze e ai nostri volontari che sono sempre operativi e attivi sul nostro territorio. Ringraziamo anche i nostri giovani, le nostre infermiere volontarie, giovani che allietano con trucca bimbi, palloncini e spiegano le loro attività e le infermiere volontarie con la divulgazione di azioni sanitarie di primo soccorso, misurazione glicemia e pressione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.